Benvenuti su audiofollia.it, oggi parliamo del giorno della memoria tra arte e musica. Il 27 gennaio, il mondo si unisce per commemorare il giorno della memoria, un giorno dedicato a ricordare le vittime dell'olocausto e a riflettere sulle atrocità del passato. Mentre la storia viene spesso raccontata attraverso libri e documentari, l'arte e la musica giocano un ruolo vitale nel trasmettere emozioni e storie che superano le barriere linguistiche. Questo articolo esplora il giorno della memoria dal punto di vista dell'arte e della musica, evidenziando come queste forme espressive possano onorare il passato e insegnare le lezioni cruciali che l'umanità non può permettersi di dimenticare. Arte che parla di orrore e speranza. L'arte visiva è un potente mezzo per trasmettere emozioni e comunicare concetti complessi. Artisti di tutto il mondo hanno dedicato le loro opere a rappresentare l'orrore dell'olocausto, catturando la sofferenza umana e l'ingiustizia. Opere come Il bambino con il pigiama a righe, di John Bowen, trasformata anche in un film toccante, o La porta dell'inferno, di Jean-Michel Follon, catturano l'attenzione dello spettatore, costringendolo a riflettere sulla fragilità della vita e sulla brutalità inflitta alle vittime. Ma l'arte non si limita solo a rappresentare l'orrore. Molti artisti cercano anche di offrire un raggio di speranza attraverso le loro opere, celebrando la resistenza umana e l'umanità che si manifesta anche nelle situazioni più estreme. Opere come Il violinista di Auschwitz, di Oscar Schindler, di Joshua Sobol, mettono in luce la forza dell'arte e della musica nel mantenere viva la speranza anche nei momenti più bui. La musica come testimone del passato La musica, con il suo potere universale di toccare le corde emotive, è un mezzo straordinario per esprimere il dolore e la speranza. Compositori come Dmitry Shostakovich e Olivier Messiaen hanno creato opere profonde ispirate alle tragedie della Seconda Guerra Mondiale. Il quartetto per archi numero 8, di Shostakovich, è un esempio commovente di come la musica possa trasmettere il dolore e la disperazione di un'epoca segnata dalla guerra. Inoltre, il repertorio musicale ebraico, ricco di tradizione e significato, è un modo potente per onorare la cultura e la storia del popolo ebraico. Brani come Kol Nidre, una preghiera ebraica recitata durante la notte di Yom Kippur, possono evocare una connessione emotiva profonda con il passato e offrire un momento di riflessione. Il giorno della memoria, visto attraverso l'obiettivo dell'arte e della musica, diventa un'opportunità per riflettere sulla potenza espressiva di queste forme d'arte nel preservare la memoria storica. Sia che si tratti di un dipinto che racconta una storia silenziosa o di una melodia che porta con sé il peso del passato, l'arte e la musica ci aiutano a onorare le vittime dell'olocausto e a imparare le lezioni cruciali che ci guidano verso un futuro più umano e compassionevole. In questo giorno speciale, uniamoci nel ricordo, nella riflessione e nella celebrazione della resilienza umana attraverso l'arte e la musica che superano il tempo e le barriere culturali. Grazie per essere arrivati fin qui, vi invito a seguire tutti i social di audiofolia.it, se siete su YouTube, iscrivervi al canale, azionare la campanella, lasciare un like, qualora abbiate necessità di produzioni musicali, arrangiamenti, mix e mastering, trascrizioni spartiti, idee regalo creative per ogni occasione come canzoni inedite su commissione, potete scrivere attraverso la sezione contatti del sito audiofolia.it, alla prossima!